Supera per la prima volta nella storia 4.000 miliardi di dollari il volume degli scambi commerciali della Cina nel 2013 e Pechino rivendica così il titolo di prima potenza commerciale al mondo. Lo attestano i dati dell'ufficio delle dogane cinesi. L'ultimo sorpasso della Cina sugli Stati Uniti si è consumato lo scorso anno sul fronte degli scambi commerciali. Il colosso asiatico è diventato dunque la più grande potenza commerciale mondiale con un valore di 4.160 miliardi di dollari in crescita del 7,6% a partire dal 2012.